Musica Imbasciatore, una importantissima mostra oggi a Roma. Sì, questa è una mostra di obieti delle culturazioni prehispaniche che date dal 11.000 a.C. fino a 1532. È una mostra di pieze che hanno stato recuperato dal nostro patrimonio culturale, recuperato in Italia, e che vogliamo farlo perché è un ringrazio a questo appoggio che ci ha dato l'Italia per recuperare il nostro patrimonio. Un patrimonio che torna in Ecuador dopo essere stato in Europa, prima forse dei furti, adesso un regalo, un bel regalo. Sì, questa è l'idea, ritornaranno, ma già hanno ritornato 5.000 pieze all'Ecuador, prodotto di questa recuperazione delle nostre pieze qui in Italia. Un'ultima cosa, una tragedia, il terremoto in settimana ha colpito il vostro paese, come stanno andando le cose? Sì, è molto difficile, è una tragedia che non ha explicazione, è una destruzione, una perdita di vidi humani, che per noi è un shock. Siamo lavorando con i paesi, con le società, con le ONG, e faccio un llamado, di fatto, a través di questi media, per contribuire con il paese. Necesitiamo il supporto di tutti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS